Morte di Rizzuto, la procura apre un fascicolo. E' ufficiale per la morte prematura causata dal coronavirus del 65enne Caluogero Rizzuto, la procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un fascicolo contro ignoti e senza ipotesi di reato per verificare eventuali omissioni o ritardi nella cura del paziente. Il jacuzzo verso il sistema sanitario siracusano è arrivato dal deputato regionale Nello Di Pasquale, il quale punta il dito sui ritardi dell'intervento di soccorso per il dirigente regionale e direttore del parco archeologico di Siracusa, ritardi che avrebbero compromesso lo stato di salute. Una lettera denuncia al prefetto di Siracusa, Giussi Scaduto, nel quale aveva denunciato giorni fa i ritardi nell'assistenza a Rizzuto, il quale aveva cominciato a star male dopo un incontro con un gruppo coreano alla fine di febbraio, ma è stato ricoverato molti giorni dopo, mentre ha riferito ancora Di Pasquale i risultati del tampone erano arrivati quando il paziente era già in terapia intensiva per una grave polmonite e contagiato dal Covid-19.